Buongiorno bambini, sono maestra Mirella. Come va? Innanzitutto volevo ringraziarvi per i lavori che mi avete spedito. Vedo che state lavorando con impegno, continuate così. La settimana scorsa abbiamo costruito e lavorato sulla linea dei numeri da terra. Oggi lavoreremo invece con una nuova linea dei numeri, una linea dei numeri chiamiamola da tavolo. Per realizzarla basta utilizzare un foglio, ottenere delle strisce alte circa 5 cm. I numeri devono partire dallo 0 e arrivare almeno al 20. Tra un numero e l'altro lasciamo uno spazio di circa 2 quadretti, quindi 2 cm. Segniamo poi l'indicazione della freccia, quindi se mi sposto verso destra il numero diventa più grande vuol dire che ho aggiunto più. Se mi sposto verso sinistra il numero diventa più piccolo e quindi vuol dire che sto togliendo. La scheda numero 1, la scheda con l'esercizio numero 1, vi chiede di fare delle semplici addizioni e sottrazioni usando appunto questo nuovo strumento. Facciamo un esempio, 7 più 3, mi appoggio su 7 e devo fare 3 passi avanti e quindi arrivo al 10. Giusto? Facciamo 12 meno 5, mi appoggio sul 12 col ditino che è il numero di partenza e devo fare 5 passi indietro. 1, 2, 3, 4, 5 e arrivo al 7. Allora ci dà il numero di partenza, facciamo un esempio, il 6 e ci dà il numero d'arrivo 4. Quindi proviamo a vedere. Mettiamo il dito sul 6, che è il numero di partenza. Se dal 6 è arrivato al 4, prima cosa devo capire in che direzione è andato. Dal 6 è andato al 4, il numero è diventato più piccolo, quindi l'operazione che ho fatto, la direzione è questa e quindi è del meno. Allora l'operazione sarà del meno, quindi scrivo 6 meno. Adesso si tratta di capire dal 6 per arrivare al 4 quanti passi ho dovuto fare all'indietro. 1, 2, allora posso scrivere meno 2. 6 meno 2 è 4. Lo stesso modo, per esempio, partiamo dal 5, mettiamo il dito sul 5 e arrivo al 9. Mi dice che devo arrivare al 9, quindi numero di partenza 5 e numero d'arrivo 9. Scopro la direzione, mi sto spostando in questa direzione, quindi l'operazione stavolta è del più. Parto dal 5 per arrivare a 9. Quanti passi devo fare dal 5 per arrivare a 9? contiamo. 1, 2, 3, 4. Allora sarà 5 più 4 uguale 9. Proviamo ancora una. 12 partenza 10. Proviamo. 12, devo arrivare al 10. La direzione è questa, quindi meno. Dal 12 per arrivare al 10, 1, 2. Allora sarà 12 meno 2. Provate a casa a lavorare e sono sicura che farete un ottimo lavoro.